Il mostro è arrivato dentro casa ed è arrivato nel posto in cui non speravamo mai e che oggi è diventato un inferno. Sono le parole del sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato in una drammatica diretta Facebook. La situazione della residenza per anziani La Fontanella, commissariata e ora gestita dall'AS, è tragica. 24 ospiti e 7 operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19. E l'esito dei tamponi, fatti il 21 marzo scorso, e mancano ancora quelli dei giorni successivi. Dalla residenza, gestita ormai come un reparto di infettivi, non entra e non esce più nessuno, eccetto gli addetti ai lavori, mandati dall'AS in sostituzione del personale preesistente, tutto in quarantena. Un silenzio assordante, esattamente come quello che si avverte in paese. Ma la situazione più drammatica riguarda le famiglie che da giorni non hanno più notizie dei propri cari e ora chiedono l'intervento del prefetto e dell'esercito. Non è tempo di fare polemiche. Purtroppo il danno è stato già fatto. Urge l'aiuto delle massime autorità che abbiamo sul territorio. È necessario che l'ASL possa avere la possibilità di dividere i positivi dai negativi per cercare di salvare quante più persone possibili. I ritardi purtroppo sono stati fondamentali in questa storia, ma ne parleremo poi. Qui scoppierà una bomba, una bomba sanitaria. Chiedo aiuto al prefetto che mobiliti la protezione civile. Abbiamo anche l'esercito. Mi aspetto risposte dalle autorità competenti. Grandi risposte. Dimostriamo quello che siamo.